Bentornati su Crens and the Boys, oggi siamo qui per la recensione di WB Royal Rumble 2022 Kick-Off non c'era, quindi partiamo subito con la main card, partiamo fortissimi Rama Reigns che definisce il titolo Universal con la sette Rollins Geniale, 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 geniale sette Rollins che entra dal pubblico con la team song e attire dello Shield Subito per fare inervosiva Rama Reigns Match partito ai 2000 all'ora con dominio di Rollins dai primi minuti Con diversi falsi finali di entrambi, capstomp, bellissime mosse Zero momenti morti, è stato un match, mi aspettavo un match da 27 minuti come al solito di Rama Reigns E un bel po' di prese statiche, invece zero momenti morti Due che mostrano gran parte del loro repertorio, non tutto ma gran parte Con un finale molto amaro che con la vittoria di sette Rollins presqualifica alla fine Che sa di beffa per il capolavoro che stavamo vedendo Bella la scelta del post match dove Rama Reigns distarugge sette Rollins Con la sedia lo colpisce alla schiena come ha fatto lui dieci anni fa praticamente Quindi scelta di booking molto discutibile e soprattutto anticlimatica Visto i buchi a Roma Reigns si è preso Adesso quindi il match che vince sette Rollins Ma il titolo che rimane a Roma Reigns Invece è cominciato a dare un otto meno Peccato perché la Bambi non ha avuto il coraggio di far vincere uno dei due Di far perdere pulito uno dei due Secondo me c'è il match a Royal Rumble 30 donne Match non particolarmente brillante Con tanti ritorni come Cameron, Ronda, Molly Holly, Alicia Fox, Melina Ma pochi momenti da ricordare Mi ricordo solo il discorso Sonia Deville e Naomi Che si elimina una vicenda Con Sonia Deville che elimina Naomi nonostante Sonia Deville era già eliminata Abbastanza prevedibile come spot tra l'altro E il turn di Bribella su Nikki Bella Diciamo che Bribella ha eliminato sua sorella Nello stesso modo in cui Nikki Bella avrebbe eliminato Bribella Nella prima Royal Rumble storica femminile del 2018 Tantissime lottatici che sono durati dai 30 secondi ai due minuti Non sto scazzando almeno la metà Almeno la metà delle loro lottatici non ha fatto niente È entrata, ha fatto vedere chi si ricorda ancora di lei ed è uscita Parte centrale molto spenta Con Charlotte che si sveglia solo alla fine Charlotte è entrata e ha eliminato tutti o solo nella fine In un finale aperto e chiuso per entesi dal 30 in poi Quindi dall'interno di Cenabezza lì in poi Molto concitata, molto frenetica, molto interessante Ma con un finale a due Ovvero Charlotte, Ronda Rousey, brevissimo E molto poco intenso Match vinto da Ronda Rousey Sinceramente ne parleremo dopo di questa cosa qua Ronda Rousey contro Becky Lynch sicura Vestermania, con Ronda Rousey che si riprenderà la rivincita Su Becky Lynch per come ha finito il main event del 2019 Vestermania a 35 La WB ha perso l'occasione di fare tante cose Come Ria Ripley, Nikki e i Sage Di farle vedere una che elimina l'altra Cameron e Naomi, sarebbe stato bello rivedere Cameron e Naomi insieme Magari che eliminavano Sonya Deville Altra Natalca di Shea Fox Comunque mi sono dimenticato Il mio voto di questa ragazza è 5 e mezzo Perché credo che tra due settimane ti ricorderai chi ha vinto E il suo ritorno E basta Non ti ricorderai altro Andiamo al terzo match che è Becky Lynch Che difende il titolo Raw Women's Contro The Drop Match sufficiente secondo me Penalizzato da un incidente che è successo Mentre Rondrausi indicava il logo di Vestermania Ovvero un incidente che ha preso fuoco Il logo di Vestermania 38 Che ha completamente spostato l'attenzione del pubblico Disinteressandosi completamente del match Match che comunque ha regalato poche emozioni Nonostante tutto The Drop ha tenuto testa alla sua avversaria Facendo vedere comunque un po' di parcomosse E un po' di quello che non avevamo visto Di quello che volevamo vedere E quello che avevo detto nella previsione Che The Drop è ovvio che perdeva Ma doveva perdere bene Secondo me ha perso bene Ha ben figurato Anche se non c'è mai stato un momento In cui pensavo che The Drop potesse vincere Anche Becky Lynch figura bene Bello il finale Con la Manhandle Slam di Becky Lynch Dalla seconda corda Con Becky Lynch che si porta a casa La vittoria Match vinto da Becky Lynch Mi sento di dare un 6 Più Perché comunque il finale è stato bello Quarto match Brock Lesnar Che difende il titolo WWE Contro Bobby Lesley Classico match di Lesnar Con la differenza che questa volta Il suo avversario Lo eguagliava in forza e stazza Spot dell'arbitro ormai Parte fondamentale dei match di Lesnar Come lo stato anche Caron Jewel Con Roma Reigns Finale scioccante Tra Reigns che colpisce Lesnar E Lesnar che viene ritradito nuovamente Da Paul Heyman A sorpresa E soprattutto A sorpresa Lesley Ridiventa campione WWE per la seconda volta Meritatamente Quindi match vinto da Bobby Lesley Match ho cominciato a dare un 6 Più Adesso la cosa molto curiosa E sapere Chi Andrà contro Lesley Diciamo che Secondo me i papabili sono Edge J.Styles Rollins E Homos Quindi Attenderemo Nella prossima puntata di Raw Nella votazione Che è cominciata Chi affronterà Il nostro amico Bobby Lesley Match che È uguale a quello che ha fatto Con Sammo Joe Uguale a quello che ha fatto Con Strowman È sempre quello Mace di Lesnar Non cambia 6 più Per il finale Molto concitato Soprattutto Questo match Cambia completamente Le sorti Da Rumble match Perché Con i progetti Che avevano da BB Di campione contro campione A Western Mania Come avevo detto Nelle previsioni Il vincitore Della Rumble S'è sicuramente Andato a NXT Invece con questa cosa Di Bobby Lesley Sicuramente Adesso Adesso sicuramente C'è un discorso Più interessante Ci sarebbe Ci sarebbe stato Un discorso più interessante Per il discorso Della Rumble Ma ne parliamo dopo Quinto match Edge Bad finish Contro The Miz E Mary's Qua molto semplice Match non particolarmente Spumeggiante Dove Sinceramente Mi aspettavo Molto di più Con copione Palese Con Inizio Face Parte centrale Il Ritorno Face Con un falso finale Però Davvero efficace Ben riuscito Con La Diving Ari Karana Di Mary's Asuka Karash In finale Di The Miz Però Kick out Al 299 Di Edge Molto ben riuscito Vittoria Della Grand Couple Che è per Edge Direi Pratica archiviata Per The Miz Su The Miz Ecco Hanno vinto Due per per view Due vittorie di fila Di Edge Quindi pratica Archiviata Mi aspettavo Molto di più Di The Bad Phoenix Però Purtroppo Così è andata Match Cominciato Di dare Comunque un 6 Soprattutto per il finale Sesto match Ed ultimo Purtroppo Rumble Maschile 30 uomini Rumble match Deludentissima Con vincitore Ovvio Considerando Il discorso Di Bobby Lesley E quindi Sicuramente C'era una Un portale Aperto Appunto Per Brock Lesnar Perché Brock Lesnar Vincendo Potremmo andare O contro quello Che gli ha appena Tolto il titolo O contro quello Che gli ha fatto Perdere La Roma Rays Quindi c'era Proprio La strada Spianata Per Lesnar Niente da ricordare Assolutamente Niente da ricordare Forse Randy Orton E Reed Sono quelli Che sul finale Hanno fatto Qualcosina Che ti ricordi L'Arte Io Ma è proprio Una roba Che ti ricordi Per una settimana Pochi ritorni Solo Drew McIntyre Shane McMahon E Bad Bunny Ma la cosa peggiore È soprattutto Il roster Che è stato gestito Molto male Con le faide Viste nelle puntate Dimenticate Di Raw Di Raw Sì Di Raw Di Smackdown Tipo I RK Bro Contro I Alpha Academy Poi Poi Non so Johnny Knoxville Semi Zane La Proventesi Johnny Knoxville Completamente Inutile Completamente Inutile All'interno Del Royal Rumble Match Dura un minuto Johnny Knoxville Poco più Almost Che praticamente Fa le stesse Eliminazioni Di Bad Bunny Almost ne ha fatte tre Bad Bunny ne ha fatte due Io mi aspettavo Che Almost Quasi battesse Il record Di Brock Lesnar Finale Che praticamente Non esiste Come Brock Lesnar Di McIntyre È stato un po' Più concitato Di Ronda Rosi Di Charlotte Flair Ma pochino Bello comunque Il finale Con Di McIntyre E Lesnar Perché nella Rumble Li conosciamo Quindi Adesso Molto probabilmente Avremo Lesnar Contro Reigns NXT Completamente Dimenticato All'interno Di questa Rumble Maschile Feminile Match vinto Da Brock Lesnar Match Comincio Di dare Personalmente Un 4 e mezzo Ovviamente La domanda Che soggi Più spontanea Ronda Rosi E Brock Lesnar Avevano bisogno Di vincere Una Royal Rumble Per andare Per il titolo Non credo Non credo Soprattutto Che si chiamano Che Brock Lesnar E anche un Frije In cui Lippo Può passare Da Raw A Smackdown Da un momento All'altro Ragazzi Pensate a Day One Cosa ha fatto Lesnar Era in un match Titolato L'hanno messo In un altro Match titolato E l'ha fatto Anche vincere Aveva bisogno Di una Royal Rumble Per vincere Certo che L'ha fatto Vincere Solo perché Così entrava Anche lui Nella Nomea Di rotatori Che hanno vinto Due Royal Rumble Per più Molto 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 Dimenticabile L'unica Cosa da ricordare Sono Cioè le cose Che ti ricorderai Sono Come ha vinto Bobby Lesnar Che ha vinto Il titolo L'hanno Lui Aveva Mariscotto Settavolins Te lo ricorderai Più o meno Chi ha vinto La Royal Rumble Solo chi ha vinto Non ti ricorderai La Royal Rumble Solo chi ha vinto Te lo ricorderai Molto Molto Deluso Da questo Paperview Il mio Voto È 6 Meno Direi che Roma Rays Settavolins Salvano Il Paperview Proprio Dal Bavato Più Totale Scrivete Nei commenti Cosa Avete Di questo Paperview Chi Aveste Voluto Come Vincitore Secondo Voi Ditemi Un po' Come Sarà Secondo Voi La Un po' La Carda Grandi Linee Di Restamina 38 Pagina Facebook Profilo Instagram Mettete Mi piace Iscrivete Al canale Ci vediamo Alla prossima Puntata Con i Sandy Boys Che vincevano La Royal Rumble Elimination Chamber More in the Bank E l'Inselle Senza motivo 3,2,1 Diritto 3,2,2,3,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,4,3,4,3,4,3,4